Sono con l'Avvocato Paolo Patrizio, che è il Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione Italo-Araba. Al di là del momento, ma ancora mai questo momento non finisce mai, di grande gravità internazionale, come al solito il Made in Italy è anche quel fattore affasciante in grado di creare dialogo internazionale e dare dei segnali di pace. Forse perché veramente la bellezza salverà il mondo, non so. Chiedo a te perché voi come Consiglio fate tante attività, ma poi tu anche come Avvocato ti trovi a essere anche pontiere tra gli italiani che vogliono andare nel mondo e quelli che nel mondo vogliono investire in Italia. A che punto stiamo quindi con lo Stato d'Arte del Made in Italy? Intanto ti ringrazio Professore per l'invito, è sempre molto piacere intervengo a questi appuntamenti di grande spessore e di grande rilievo. Oggi il Made in Italy definisce un brand identitario a livello internazionale e dunque è fondamentale non solo l'istituzione di una giornata sul Made in Italy, ma lavorare in maniera costante per dare tutela e garanzia a questo brand che rappresenta l'italianità all'interno del mondo. È un brand che funziona molto, è un brand che però ha necessità del supporto delle istituzioni, la necessità del supporto della rete, perché non basta dire Made in Italy, ma è necessario attuare tutta una serie di politiche ultraattive che consentano poi di tradurre questa nomea in azioni concrete e di valenza internazionale. Come Consiglio Internazionale di Cooperazione puntiamo molto su questo brand perché costituisce un gate d'accesso ad altri territori, ad altri mondi, ad altre culture, è però essenziale che le istituzioni siano al nostro fianco, che le imprese facciano rete tra di loro e che si costituiscano sempre più canali ed eventi come questo in grado di affrontare quelle che sono le prospettive di investimento, ma anche quelle che sono purtroppo le criticità di un sistema che non sempre è all'altezza di ciò che viene richiesto a livello internazionale. Se potessimo sintetizzare con un verbo, quale consiglio daresti agli imprenditori italiani che guardano in questo momento così complicato i mercati internazionali? Probabilmente con un aggettivo, direi più come fiducia e coraggio, perché è necessario superare quel gap mentale che considera l'italianità come un ambito secondario di approccio alla materia internazionale, mentre invece in questo momento di soft economy probabilmente le nostre tradizioni, il nostro bagaglio culturale, la nostra economia lenta e circoscritta al territorio può fungere da elemento diversificatore importante e quindi essere un elemento distintivo che ci consente di affermarci in Italia e nel mondo. Benissimo, grazie.